17 dicembre 1538, Papa Paolo III invia la seconda scomunica a re Enrico VIII d'Inghilterra. Viene così definitivamente sancito lo scisma della Chiesa d'Inghilterra. Motivo della scomunica sono le nozze di Enrico VIII con Anna Bolena, nonostante che il precedente pontefice Clemente VII non avesse concesso il divorzio al sovrano. Grazie per la visione!